Nel tempo è la diapesito, ven 5 secondi e così è! Si allargono i comiti, pronti a spingere! Uno da GMator! il che si trova in testa mentre meno di qua l'Italia è ferma, all'inizio subito dopo questo incendio è come si sono scremati i piloti in questa prima fase, in questo primo ramp, in questo primo giro ed ecco qua che arriva l'Olanda veramente super sonica in questo momento l'Olanda è veramente alto perché da tutte le grandi asce che si vede su questi speciali come vedete la Francia è seconda, le Francia è un'estendimento della Gran Bretagna alla starta posizione ed ecco che si vanno a dare, si va, a dare un'esperienza la seconda posizione è una decima posizione nazionale al comando quindi l'Olanda è quella, Qüvenel, Van der Miela, continuano a l'Olanda, Qüvenel, Van der Miela, faccio che non la voglia, c'è un'esperienza l'Olanda è un'esperienza e in tutto e per tutto in quello che è l'Olanda ossia che l'Olanda è un'esperienza ma la Francia è veramente bellissima la Francia è veramente bellissima questa giornata è una bella Francia la Francia è un pochino la Gran Bretagna e Ligone spinge, 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 Mari male, semia VSC La prima posizione, il cartello dei 15 secondi è esposto, viene esposto anche il cartello dei 5 secondi VSC VSC Il primo giro dei 25 minuti, i due giri che andremo ad apprezzare qui al tettore con le tre ruote artigliate, il primo giro dei 25 minuti, il primo giro dei 25 minuti, i due giri che andremo ad apprezzare qui al tettore con le tre ruote artigliate, il primo giro dei 25 minuti, i due giri che andremo ad apprezzare qui al tettore, il primo giro dei 25 minuti, i due giri che andremo ad apprezzare qui al tettore, Svizzera in settima posizione, ottava posizione per l'Olanda, come già accettato, quel contatto con un ricordo della situazione italiana, il nostro millero interco che è l'Italia con i fratelli, con i fratelli Fiorini, che hanno agguantato una 14. Siamo avanti con la Gran Bretagna, con il duo Wilkinson, miliardi, quarti assoluti al campionato, a dare spettacolo in questo scenario, i giovanissimi gemelli di 17 anni, gli Elbardis, gli occhi puntati su Francia e Gran Bretagna e ci sono, è stato esposto il cartello dei 5 secondi e via che si vola, via che si vola, quanti ti faccio a forma? Ed è, vediamo pronto, è l'Olanda, l'Olanda che si vuole ancora una volta in questa partenza, mentre un equipaggio vengono male, il fatto altro spardo, problema meccanico, mentre là davanti, ecco subito l'Olanda che va a prendere la prima posizione, vediamo se riuscirà a mantenere l'Olanda, che la troviamo tra l'altro, sia in prima che in terza posizione, quindi l'Olanda che continua a tirare il suo alimento di olore, e meriti a Germana, se vanno un po' l'altro, e quindi onore, e meriti a Sinecar, questa partenza autografica, può essere molto importante per l'Olanda, e quindi, tutti i posti e i posti, e qui, quindi se, qui, 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 qui e qui.. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.